Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la cronaca perché il repentino peggioramento ieri delle condizioni meteorologiche ha miettuto due vittime, sono due marittimi di Giulianova inghiottiti dal mare assieme al motopeschereccio Eliana. I pescatori hanno avuto dei problemi tecnici con le reti incagliate e non sono riusciti a tornare. In porto la procura terramana che ha aperto un fascicolo d'indagine ha disposto l'autopsia sulle vittime che si terrà domani e sarà eseguita dall'anatomo patologo Giuseppe Sciarra, il servizio di Alfredo Primante. Inghiottiti dal mare in burrasca a poco meno di due miglia dalla costa. La tempesta che ieri si è abbattuta sul litorale abruzzese ha portato con sé Elia Artone, 64 anni, originario del Gargano, ma da anni residente a Giulianova, e Carlo Mazzi, giuliese, di 53 anni. I due erano pescatori molto esperti, il primo armatore di diverse imbarcazioni, da poco andato in pensione, l'altro figlio d'arte, una vita legata al mare. Il moto peschereccio Eliana, che portava il nome della figlia di Artone, 12 metri di lunghezza, si è trovato al centro di un vero e proprio ciclone che non ha lasciato scampo agli unici due occupanti dell'imbarcazione. L'allarme è scattato attorno alle 15, quando i familiari di Artone, preoccupati dal peggioramento delle condizioni meteo e dal fatto che non riuscivano più a mettersi in contatto con l'imbarcazione con i due marittimi, Nel frattempo impegnati a disincagliare le reti da pesca a strascico, che non consentivano la partenza del moto pesca, hanno deciso di chiamare la guardia costiera. Nell'ultimo contatto con i familiari, Artone aveva parlato di problemi tecnici ed è stato alle 13.30, prima che si scatenasse la tempesta perfetta in cui si è trovata Eliana. Attorno alle 15, quindi, la macchina dei soccorsi si è messa in moto, coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pescara. Tre le motovedette partite da Giulianova, da Pescara e da San Benedetto del Tronto, che hanno affrontato le condizioni avverse del mare Forza 3 e del vento che soffiava a 15 nodi. Nelle ricerche è stato coinvolto anche un elicottero, che in quel momento si trovava a Pescara per fare ritorno alla base di Sarzana, in Liguria. Alle 17.45, i peggiori incubi dei familiari, che nel frattempo si erano assepati nel porto di Giulianova in attesa di notizie, si materializzano con il ritrovamento di alcuni rottami dell'Eliana. È solo il preludio alla tragedia, innatante e raffondato non molto lontano dalla zona dei primi ritrovamenti. Attorno alle 18.30 vengono localizzate le vittime che successivamente sbarcano nel porto di Giulianova, tra lo sgomento e la disperazione di quanti hanno sperato, fino alla fine, in un epilogo positivo delle ricerche in mare. E dunque giornata di lutto per la marineria giugliese, che oggi non ha lavorato ed è rimasta a terra all'indomani dell'incidente, in cui hanno perso la vita Elia Artone e Carlo Mazzi. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, mentre il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromaura, ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il servizio di Andrea Costantini. Marineria giugliese in lutto dopo la tragedia in mare nella quale hanno perso la vita l'armatore del pescareccio Eliana, Elia Artone, ed il marinaio Carlo Mazzi. Un fatto che ha sconvolto la comunità giugliese. Non è bastata l'esperienza di due persone che conoscevano molto bene il mare. La furia della burrasca, unita ad altre contingenze negative, non hanno lasciato scampo. Siamo affranti da quello che è successo perché certe cose non devono succedere, a noi ci vuole il cuore quando è padre di famiglie che vanno a cambiare in mare per portare a casa per i figli e perdere la vita in quel modo è assurdo. Lei conosceva bene entrambe le persone? Ho scontato due bravissime persone, grandi lavoratori, Elia e Carlo, persone semplici, persone buone, marinai che ci tenevano al lavoro, ci tenevano al mestiere, persone esperte, Elia era esperto. Non è facile neanche capire quella che è stata la dinamica di questo incidente. Da come ho visto le foto che abbiamo fatto da arriva, da come ho visto il geonavigatore che indica tutti i fenomeni elettrici che stanno per arrivare, l'aperturazione era abbastanza forte. Secondo il mio punto di vista si sono unite due turbolenze che si sono unite in una. Su quel passaggio è difficile che una barca di piccole dimensioni se la scampi. Si è parlato anche del fatto che la rete si sia impigliata nell'elica, questa è un'altra fatalità. Bisogna vederlo, potrebbe anche essere un problema di salpamento, perché logicamente non è facile, taglio la rete, perché la rete è composta da tanti cavi, catene e cose, non puoi tagliare. In quel momento se si blocca il vericello o succede che si rompono tubitarlo, il vericello salpapiano, tu sei vincolato, non puoi né tagliare né fare niente. Squeo di Federpesca pone anche l'attenzione sui cambiamenti climatici e sull'inasprimento di alcuni fenomeni atmosferici che si sono registrati negli ultimi anni. Sicuramente il clima è cambiato e noi che andiamo in mare bisogna valutare queste cose, se bisogna guardare bene bisogna scappare a terra quando accadono questi fenomeni, perché nel seno di questi fenomeni ci sono molte attività elettriche, fulmini, e questo potrebbe essere anche, secondo i vecchi marinai, potrebbe essere anche una causa, un fulmine a bordo. Cordoglio è stato espresso anche dai rappresentanti delle istituzioni. Ieri sera il primo cittadino di Giulia Nova, Francesco Mastromauro, ha diffuso una nota nell'esprimere ai familiari dei due marinai deceduti. A nome personale dell'intera amministrazione comunale, il profondo cordoglio e la vicinanza, il sindaco ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. Stamani su Facebook anche le parole del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, mi ha dolore a sapere che ieri due marinai giuliesi sono stati travolti dalla furia degli elementi che li ha strappati all'affetto dei loro cari. Rivolgo alle loro famiglie le condolienze mie e di tutti gli abruzzesi. E adesso cambiamo argomento, andiamo all'Aquila per l'inchiesta appalti post-sisma. A breve arriverà l'avviso di conclusione delle indagini. Gli interrogatori del GIP e del PM sono conclusi. I carabinieri del nucleo operativo vanno invece avanti con quelli degli indagati. Secondo la procura le prove emerse sarebbero chiare in servizio di Daniela Rosone. A breve arriverà la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini dell'inchiesta l'importante è partecipare, l'ennesima sulla ricostruzione post-terremoto. Gli interrogatori sono stati velocissimi e il GIP Gargarella con il PM titolare dell'inchiesta, la dottoressa Picardi, hanno ascoltato in tempi rapidi 8 delle 15 persone che hanno avuto le misure cautelari. Gli altri 7 sono stati sentiti invece in rogatoria. Per quanto riguarda invece gli indagati, sono i carabinieri del nucleo operativo a portare avanti gli interrogatori. Da parte della procura dunque sembrerebbe esserci un'accelerazione dovuta al fatto che le prove emerse finora sembrerebbero abbastanza chiare. E quando si parla di prove ci si riferisce alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle foto e ai video che avrebbero verificato ridazioni di denaro e il conseguente sistema corruttivo. Oltre agli interrogati della prima giornata sono stati ascoltati fracassa della fracassa SRL di Teramo Alessandra Del Cane, la professionista sempre di Teramo, che ha avuto l'interdizione del lavoro. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre ha riaspinto completamente tutte le accuse Mauro Lancia, con titolare della Lancia SRL di Pergola. Al centro dell'inchiesta, lo ricordiamo, ci sono gli appalti pubblici della ricostruzione post-terremoto 2009, anche prestigiosi, in alcuni casi gestiti dal MIBAC, come ad esempio quello del teatro comunale. Secondo l'accusa appalti gestiti in maniera assolutamente clientelare, attribuendo a parenti e amici incarichi professionali, alcuni su scelta dell'amministrazione pubblica, altri suggerendo i nomi alle ditte che svolgevano invece i lavori. Alcune ditte si sarebbero così garantite l'assegnazione di gare d'appalto, con ribassi particolarmente cospicui, ottenendo successivamente il recupero attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, dopo il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sull'assestamento di bilancio, annuncia una spending review senza pietà per rendite di posizione a fini elettorali. In vista anche un cambio di rotta su Teate Servizi. Vediamo. Non avrò pietà per nessuna rendita di posizione di consiglieri o assessori. Il sindaco di Chieti risponde così, con un messaggio interno alla sua maggioranza, al parere non favorevole all'assestamento di bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che pure aveva dato parere favorevole sia al bilancio di previsione che a quello consuntivo. I conti stanno migliorando, dice Di Primio. Abbiamo fatto un lavoro di riordino importante che darà i suoi frutti in futuro. L'amministrazione non può solo essere un discorso ragionieristico, si difende il primo cittadino, perché se è un dovere non far fallire il comune, d'altro canto la città deve rimanere viva. Uno scenario, continua il sindaco, di cui i Revisori non sembrano tenere conto, pur apprezzando il lavoro svolto sui conti dell'ente. Tra le criticità individuate e i debiti fuori bilancio, che riguardano vertenze con il personale e lavori pubblici, legge, emergenza, neve. Qui Di Primio attacca ad Alfonso, che ha promesso soldi che non sono mai arrivati e che il comune ha dovuto anticipare per riparare i danni di quest'inverno, fondi, dice, già coperti in bilancio. C'è poi il capitolo legato agli equilibri di cassa. Qui Di Primio chiama in causa Teate Servizi e la sua gestione. Non riscuote i tributi dovuti, ma i cittadini non pagano le tasse. Teate Servizi, continua Di Primio, deve fare quello che può fare e che sia economicamente sostenibile. In vista a un cambio di gestione, probabilmente uno sdoppiamento della riscossione tributi, con quella coattiva in capo ad un altro ente che abbia maggiori strumenti normativi per riscuotere il dovuto. Comunque, i rilievi, sebbene non trovino d'accordo l'amministrazione comunale, vengono accettati come uno stimolo a fare meglio e di più e ad intervenire con decisione sulla revisione della spesa. Abbiamo intenzione di costituire un organismo coordinato dal segretario comunale che dovrà rivedere tutta la spesa del comune, tutti i servizi, le utenze, i contratti di servizi con le nostre società. Abbiamo intenzione di internalizzare alcuni servizi che oggi sono resi all'esterno per far sì che il comune possa avere flussi di cassa immediati, a differenza di quello che succede oggi, dove addirittura abbiamo sofferenze perché non ci viene riversato quanto è dovuto al comune. Abbiamo intenzione di potenziare il controllo analogo dell'ente per fare in modo che ci sia una fluidità tra le notizie che vengono dal comune e quelle che devono arrivare al comune dalle partecipate. Abbiamo anche puntato l'attenzione su una serie di razionalizzazioni che vanno dalle locazioni non passive, perché non abbiamo molte, ma abbiamo tante locazioni invece attive, cioè dove il comune fitta dei locali e ci sono prezzi che non sono più di mercato. Così come abbiamo dei servizi che oggi costano oggettivamente troppo ai cittadini di Chieti, alle casse del comune e che meridono di essere esternalizzati perché attraverso il mercato libero abbiamo possibilità di abbatterne i costi. Via Libera, la procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dell'immobile di Via Ciafarda, sede dell'asilo Nido di San Giovanni Teatino, che vedete in foto. L'avviso è stato pubblicato in questi giorni e l'apertura delle buste è fissata per le 9.30 di giovedì 10 agosto. Con questo atto si mette fine a tutta una serie di polemiche spesso costruite ad arte che hanno alimentato una situazione già di per sé dolorosa. Parte di questa amministrazione, dichiara il sindaco Luciano Marinucci, ha visto nascere il nido, dunque umanamente quanto ci si appresta a fare è una sconfitta per tutti. Tuttavia i tagli operati dal governo e le leggi, come il testo Madia, non ci permettono di fare diversamente. L'immobile posto in concessione è già adibito a servizio di asilo nido della SGT Multiservizi, società in house del comune, per 120 poste. 80 bambini sono stati gli iscritti nell'ultimo anno educativo con l'impiego di una coordinatrice, 14 educatrici e 3 addetti ai servizi accessori. Tutti dipendenti della società in house del comune. Il contratto di concessione avrà durata di 4 anni educativi, con decorrenza 1 settembre 2017 fino al 31 luglio 2021. Il concessionario dovrà versare un canone annuo di 18.000 euro. Torniamo all'Aquila per parlare di progetto case. Su un sito di annunci infatti si scopre che c'è chi subaffitta stanze negli appartamenti proprio del progetto case. Un fatto gravissimo sul quale il comune dell'Aquila è invitato a prendere una posizione e a fare maggiori controlli. E così, nell'era del progetto case, accade pure che ti ritrovi sul sito per annunci subito.it quello del subaffitto di una stanza al progetto case di Sassa. A scovare la questione è stato il periodico l'editoriale che, a firma di Alessandra Cococcetta, mette in luce la questione. 250 euro, chiedere di Maria. Questo sta scritto sull'annuncio. C'è da chiedersi a questo punto come voglia intervenire il comune dell'Aquila e il settore con la sua dirigente di riferimento Enrica De Paulis, ma il fatto resta comunque gravissimo e probabilmente, come questo caso, ce ne sono altri rimasti per ora sommersi. Insomma, c'è chi subaffitta di questi tempi alloggi che dovrebbero invece essere usati solo per la mera emergenza. La domanda è, chi dovrebbe controllare tutto? E questo accade dopo che la Corte dei Conti ha da poco assolto la vecchia amministrazione sulla mala gestione dei conti del progetto case. E sul progetto case se ne sentono tante. Chi userebbe gli appartamenti per la prostituzione? Ora esce la storia dei subaffitti? Certo che controlli mirati non guasterebbero, considerando che esistono persone che realmente invece hanno bisogno di questi alloggi. Dal sindaco Biondi ora ci si aspetta una presa di posizione dalla procura pure per accertare chi è questa signora che affitta una stanza a 250 euro a sassa in alloggi che servirebbero invece per l'emergenza. Dopo 23 anni è tornato in superficie il Cristo degli Abissi. La statua bronze accesellata dallo scultore lancianese Vito Pancella riemerge dal mare di Rocca San Giovanni per il restauro a cura dei sub dell'Orsa Minore. Sarà di nuovo inabissata il 5 agosto. È tornata in superficie dopo 23 anni la statua del Cristo degli Abissi. La famosa scultura dell'artista Vito Pancella posta su una base di cemento a circa 6 metri di profondità il 7 agosto del 1994 dall'associazione subacquea Orsa Minore Lanciano nei fondali di Rocca San Giovanni. Proprio i sub di una delle associazioni più intraprendenti e competenti d'Abruzzo si sono sempre occupati della manutenzione, della pulizia e della sorveglianza della statua che però dopo oltre 5 lustri aveva bisogno di manutenzione straordinaria. Un trattamento speciale per il bronzo consentirà poi di immergere nuovamente il Cristo nell'ambiente a lui più congeniale a protezione dei pescatori e di tutti coloro che vanno per mare. All'imbocco del piccolo porticciolo sulla murata sud è posizionata una copia della statua sempre a protezione dei pescatori e dei devoti. La statua sarà esposta nel municipio di Rocca San Giovanni dal 29 luglio al prossimo 5 agosto un sabato quando, come la tradizione, ci sarà la messa e la suggestiva fiaccolata in mare organizzata in località Porticciolo nella frazione di Vallevò. Quest'anno la statua sarà portata in processione nuovamente inabissata dagli esperti sub dell'Orsa Minore quest'anno ai 30 anni di attività. E adesso una notizia che ci riguarda da vicino perché per il quinto anno consecutivo il nostro telegiornale, il TG6 si ha giudicato il premio Simpatia Montis Silvani ideato dal giornalista Pino Costa un riconoscimento a Enrico Rocchi storica voce del pescare conduttore della nostra trasmissione Replay ieri sera la cerimonia di premiazione proprio a Montesilvano ha ritirato il premio per il nostro telegiornale il direttore generale Mauro Di Pietro il servizio è di Paolo Sinibali Il direttore di TV6 Mauro Di Pietro essere premiati come telegiornale d'eccellenza in Abruzzo direi che non è un premio secondario perché il TG rimane un po' il fiorell'occhiello delle televisioni Noi innanzitutto questo premio lo prendiamo dopo tre anni di seguito e quindi per tre anni abbiamo dimostrato un standard qualitativo del nostro telegiornale che evidentemente ci premia ma che viene apprezzato da questa giuria popolare e che quindi è un riconoscimento per lo sforzo quotidiano e il lavoro che fa la redazione che è impegnata veramente sul fronte del telegiornale in maniera molto concentrata quindi penso che sia il giusto riconoscimento per gli sforzi che ogni giorno i ragazzi fanno in redazione TV6 negli anni si è sempre resa protagonista per essere innovativa anche nelle idee giovane, innovativa, professionale, propositiva questa potrebbe essere la sintesi Siamo stati i primi per esempio ad introdurre la lettura dei quotidiani con un sistema innovativo prima usavamo l'iPad e invece adesso da due giorni abbiamo avviato questo nuovo sistema con un touchscreen di ultima generazione abbiamo le previsioni di meteo con il green screen che ci consente con il meteorologo in studio di fare delle previsioni con le mappe diciamo che TV6 sotto questo aspetto è veramente all'avanguardia Flash per chiudere se ci può dare il direttore qualche anticipazione magari qualche chicca per la stagione prossima che ormai si sta per riaprire La stagione prossima sicuramente il grosso del palinzesto è impegnato ed occupato ci dà dei grossi risultati perché seguiamo in maniera puntuale lo sport quindi sicuramente confermeremo l'impegno per la Pescara Calcio per la Lega Pro con il Teramo e sicuramente daremo un grande spazio al campionato di Lega di Lettanti se poi consideriamo che da sempre TV6 è la televisione di riferimento per quanto riguarda anche gli sport minori con la Wisp diciamo che TV6 sotto questo aspetto è veramente la televisione dove lo sport è protagonista Cambiamo argomento adesso ha presa la notizia che la Federazione della Caccia Provinciale di Chieti organizza per il 29 e 30 luglio la festa del cacciatore con ospite Paolo Pennacchini presidente di Fan BPO il Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai del Paleartico Occidentale il delegato regionale della Federazione Italiana della Caccia sulla specie Scolopax rusticola Francesco Petrella esprime dissenso nei confronti della condotta della Federazione di Chieti Pennacchini dice Petrella nel suo ruolo di presidente FAN BPO infatti ha sempre espresso posizioni contrarie all'indirizzo gestionale della Federazione della Caccia d'Abruzzo non posso che essere pertanto meravigliato dell'iniziativa di invitarlo come ospite alla festa della caccia si è aperta ieri sera e si protrarrà fino a domenica prossima la quindicesima edizione della Sagra della Trebbiatura in località Faraone di Sant'Egidio al Vibrata proprio domenica pomeriggio il momento clou della manifestazione con la rievocazione della Trebbiatura il servizio di Publi Video la quindicesima Sagra della Trebbiatura Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata Sagra della Trebbiatura che ogni sera avremo uno spettacolo musicale con Angelo Carestia Vincenzo Pela troviamo anche Rob Popo c'è musica per giovani le nostre specialità sono gli spaghetti della Trebbiatura poi abbiamo pecora alla callara ci abbiamo anche arrosticini salsicce formaggio fritto un'associazione che è composta da 40 persone che volontariamente partecipano a questo evento ad altri eventi che durante l'anno facciamo come la castagnata o gite sociali tutto è nato 25 anni fa con la prima rievocazione della Trebbiatura poi nel corso degli anni abbiamo aggiunto anche la Sagra infatti domenica avremo al mattino il raduno dei trattori d'epoca e nel pomeriggio avremo la rievocazione della Trebbiatura dove saranno offerti biscotti specifici della Trebbiatura con vino omaggio a tutti gli intervenuti vi aspettiamo numerosi apriamo adesso la pagina di sport il Pescara ha chiuso la prima parte del ritiro precampionato di Rivisondoli con l'amichevole ieri pomeriggio vinta per 3 a 1 sul Teramo i biancazzurri di Zeman torneranno a sudare sabato prossimo a Palena buone indicazioni anche per i biancorossi di Antonino Asta che con i titolari ha tenuto testa agli avversari nel primo tempo per poi cedere nella ripresa venerdì prossimo per il Teramo testa Rivisondoli contro la Fidelisandria vediamo il servizio della partita di Andrea Costantini e poi le parole dei due tecnici Zeman e Asta è finito 3 a 1 per il Pescara il primo test probante stagionale per i biancazzurri di Zeman e il Teramo al De Marsi di Avezzanu il cui manto regge alle piogge delle ore antecedenti il match un test che chiude la prima parte del ritiro estivo del Delfino con i giocatori che ora si godranno tre giorni di assoluto riposo prima di riprendere la preparazione sabato prossimo a Palena la rosa extra large non è facile da gestire e Zeman lascia fuori svariati elementi tra cui Gans e Latte Latte e gli acciaccati Zampano Bovo e Fornasier bene il baby Delicari al fianco di Perrotta Capone e Del Sole in appoggio di Pettinari il quale dopo appena due minuti sblocca il risultato incornando da corta distanza il cross di Mazzotta il Teramo del primo tempo è nella versione titolare con un 4-3-2-1 corto e compatto nel quale i brevi linei De Grazia e Fratangelo si fanno apprezzare alla mezz'ora Tulli in corna alto al 38esimo Del Sole impegna severamente Calore che poi dice no anche a Pettinari al 40esimo il Teramo impatta con il pregevole tocco sotto di Fratangelo il quale batte Fiorillo in uscita dopo aver eluso la trappola del fuorigioco la girandola dei cambi della ripresa agevola il Pescara che ha buone risposte in particolare da Benali e Coulibaly il Teramo pieno di giovani perde un po' di consistenza e il Pescara ne approfitta per l'1-2 che definisce il risultato al settimo Coda di testa sfrutta il cross di Crescensi e batte Lewandowski passano dieci minuti e Mazzotta sforna il secondo assist di giornata per il sinistro forte e preciso di Benali impiegato a sinistra nel tridente con Nicastro e Mancuso Pigliacelli si mette in evidenza sulla conclusione di Paolucci poi il Pescara manca qualche altra opportunità per arrotondare il risultato complessivamente promosso il Teramo del primo tempo in attesa di ulteriori innesti per completare l'organico venerdì arrivi Sondoli il prossimo test con la Fidelisandria Zeman invece continua a lanciare segnali sulla rosa troppo ampia a Palena vorrei fossimo in 28 dice il Boemo nel topocara e se il mercato in uscita non dovesse portare novità non sono da escludere defezioni eccellenti dalla lista dei convocati per la seconda parte del ritiro nel centro del Sangro Aventino ma impressioni discrete nel senso che questa squadra ha lavorato ho lavorato tanto mi rendo conto che trascinano le gambe quindi per me è normale loro forse non erano abituati quindi in queste condizioni a me serviva più per vedere se riescono a fare movimenti due tre movimenti che ci chiedo io non lo so io vorrei andare in 28 e gli altri diciamo per allenamento puoi anche lasciarmi a casa la gente si possono allenare a parte o appoggio ma è purtroppo io intanto da Juventus non voglio parlare più perché quando ne parlo bene non esce quando ne parlo che poi non ne parlo io ma sono sono affermazioni di giornalista che ha fatto lui e poi casco io quindi io da Juventus non parlo più ma sorpresa no io penso che a parte che molti ragazzi che sono arrivati per me tecnicamente sono validi poi ripeto con il lavoro che abbiamo fatto è difficile esprimere tutte le qualità però penso che cresceranno poi i vecchi li conosco penso che anche loro conoscono me e dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso però non voglio fare i nomi e i cognomi io dico che si sono applicati tutti sul lavoro oggi era importante era la nostra prima vera uscita ufficiale ufficiale nel senso una squadra importante da dieci giorni di lavoro quindi era anche normale tutto questo ho notato delle buone cose come altre meno però siamo qua apposta per cercare di lavorare e migliorare quelle lacune ma è piaciuto come sono stati in campo sia il primo che il secondo tempo una squadra che mi fa piacere che è rimasta nei 40 metri in zona palla ogni volta questa è una cosa positiva diciamo che erano sempre abbastanza legati in base alla palla stiamo lavorando molto in riferimento della palla degli avversari e quindi tutti si sono mossi molto bene e siamo ripartiti lì dobbiamo farlo ancora meglio però questa è una cosa positiva e comunque era già un clima di partita vera e c'era già questa voglia di voler cercare di fare bene anche se amichevole con me non ci sono amichevoli anche le partitine vanno giocate per vincere loro incominciano a capirle e quello deve essere l'obiettivo da qua alla fine e invece a Francavilla è iniziato un nuovo corso in attesa del ripescaggio in serie D per cui manca solamente l'ufficialità Pierluigi Iervese sarà il nuovo allenatore dei giallorossi mentre Francesco Marino il consulente di mercato è soddisfatto il primo cittadino di Francavilla Antonio Luciani per aver portato a termine questa transizione societaria societaria Sindaco ci siamo il Francavilla prossimo al ripescaggio in serie D con una nuova proprietà per poter ripartire per poter affrontare un campionato che mancava nella storia del Francavilla da tanti anni era il 95 il 96 l'ultima volta che il Francavilla in serie D ma veniva da una serie di retrocessioni in verità l'ultima volta che questa città ha avuto la prima squadra in serie D è stato l'anno 1976 quindi questo appuntamento manca da 41 anni io considero già la squadra ripescata perché è uscita la classifica definitiva che ci vede terzi sono già più di 5 le squadre non iscritte in serie D quindi il ripescaggio ormai è cosa ufficiale ma la vera bella notizia è l'arrivo del presidente l'ingegnere Gilberto Candeloro con il vicepresidente Giacomo Ortolano che promettono un futuro splendido a questa città dal punto di vista calcistico e questa cosa mi riempie d'orgoglio e di gioia fatemi anche ringraziare il presidente uscente Fabio De Vincentes che comunque ha lasciato una società solida senza debiti ripescata appunto in serie D e quindi anche a lui va un plauso sono state settimane intense perché c'è stata anche incertezza però lei aveva garantito che insomma i fronti erano diversi alla fine quasi all'improvviso è sbucato questo imprenditore che era stato accostato in passato anche a Lanciano in verità per me non è quasi all'improvviso alla stampa al pubblico si è quasi all'improvviso c'è stato un lavorio continuo ho dovuto occuparmi di questa vicenda dal primo giorno l'ho fatto minuto dopo minuto per fare in modo che il Francavilla passasse in buone mani erano tante le persone interessate ma abbiamo visto appunto abbiamo dato priorità alla solidità alla serietà e quindi aver trovato ora questa questa nuova società mi riempie di gioia e d'orgoglio è stato l'etiope a Dunia a imporsi alla tradizionale gara di podistica notturna di Roseto degli Abruzzi in una edizione che ha fatto registrare il record delle 800 iscrizioni vediamo che cosa posso chiedere a Dunia considerando che vince sempre posso dire che magari stai diventando un maratoneta e che magari queste distanze ti servono anche per fare una buona preparazione a livello di ritmi più veloci beh veramente ora sto preparando maratona e maratona di campionato italiano di maratona a Verona ma ora stiamo preparando con il mio allenatore coach Andrea Giocondi 800 metrista ha vinto Europa e il campionato italiano quindi stiamo facendo un lavoro specifico con lui qui a Roseto sei partito subito deciso hai preso il largo e hai ottenuto se non vado errato la tua miglior prestazione qui sul percorso della notturna ma ormai io per questo conosco qua a Roseto e quindi ho deciso i primi 5 km sotto 3 al km e ho deciso ho fatto sotto 3 e poi dopo ho guardato indietro e quindi sono andato tranquillo ma ho fatto una bella gara quindi stai cambiando anche un po' il tipo di preparazione di allenamento no? sì 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 ci sono i tactici come devo fare quindi è andata benissimo va bene senti sulla maratona invece che cosa vorresti fare perché nelle gare su strada quelle brevi almeno in Abruzzo sei praticamente imbattibile ma in Abruzzo diciamo sì anche in altre regioni delle Marche Lazio e Puglia sto facendo le gare su strada 10 km e mezzo a maratona adesso stiamo obiettivo a vincere il campionato italiano in una maratona di Verona io e il mio allenatore abbiamo deciso a vincere titolo campionato italiano maratona crono che vuoi fare? obiettivo sotto 2 ore e 20 intorno a 18 grazie e questo era l'ultimo servizio per questa seconda edizione il TG6 torna questa sera alle ore 23 per l'edizione della notte è tutto buona serata grazie a tutti